Ciao a tutti ragazzi, sono Gio de TechGamers Siamo qui, spero, con un breve tutorial su come installare i file Android, cioè i APK su Windows 10 Mobile Allora, banda le ciance Andiamo subito al sodo Allora, per prima cosa dobbiamo scaricare il tool apposito Ah, sul telefono uso la build 10.512 Quindi l'ultima dei insider preview Allora, scarichiamo il file Cos'è che l'ho upato io apposta E vi metterò l'apposito link sulla descrizione Attendiamo mentre viene scaricato Download this file if you are in English Scusate se parlo anche inglese, ma anche se mi ha pronunciato Mi ho parlato inglese non è al massimo, però Devo dire anche agli amici inglesi Cosa fare Allora, scaricato Adesso andiamo Qui Download Ed eccolo qua Allora Noi questo qui lo mettiamo qua Creiamo un'uova cartella Allora Allora Apk Tool Apriamola Apriamo anche il file RAR Estraiamo tutti I file Nella apposita cartella che abbiamo appena creato Allora Per prima cosa Installiamo questo Vabbè vi faccio riparo Facciamo avvento che lo installo Riparo Sì Io ce l'ho già installato questo qui Allora Fatto Poi installiamo questo Uno Due First Second Sì Yes Ok Fatto Adesso apriamo Apk to windows 10 mobile Dovevo installarlo Next Accept Next Install Sì Aspettiamo che finisca Dovevo fare subito eh In teoria Eh Si è aperta questa roba Sì Ok Togliamo questo Lo apriamo manualmente Non si sa mai Chiudiamo questo Close this Window Ok Dicevamo Siamo qui Allora Ok Si è aperto Allora Dal telefono Andiamo su Impostazioni Aggiornamento di sicurezza Update and security For developer Cioè per gli sviluppatori Enable Developer Developer Vuol dire Mod Modalità sviluppatore Cioè Yes Si Individuazione di dispositivi Attiviamolo Clicchiamo su Associa Scriviamo questo codice qui Qui U3 J4 Z7 Clicchiamo Connect Connect car Car C'è scritto Sul telefono Clicchiamo Fatto Ok Adesso Sul programma Si dovrebbe Connettere Al telefono Aspettiamo un attimo Dice Non risponde Ma non è vero Sta caricando Abbiate pazienza Ecco qua Ok L'ha caricato Ha caricato il telefono Non è il programma Cioè Adesso lo legge Adesso andiamo a scaricare un file apk Per esempio Andiamo su apk for fun Scarichiamo Clash of clans Che occupa Poco Ho scritto Sbagliato Clash Clash of clans 756.5 Dovrebbe essere questo qui Zp share Download apk Oh Ste pubblicità però Download now Aspettiamo Finisce di scaricare un attimo Qui Dovrebbe essere l'ultima versione Che sto qua In teoria Sì E' l'ultima versione 30 secondi Rimanenti White Cioè Aspettiamo un attimo White moment Qua sul telefono Rimaniamo in questa schermata Su programma pur Sto programma L'ha chiamato Antonio Della iglesia Non è mio Ovviamente Ve lo dico Già subito Ok La Finito di scaricare Download Supercell Eccolo qua Taglia Cut And passed In the desktop Cioè in collo Su desktop Allora Adesso Apriamo L'interfaccia Dei due programmi E adesso Trasciniamo Il file Apk Arrestre A qui Clicchiamo Installar Adesso Aspettiamo un attimo Qui White This Green Non mi ricordo Come si dice Barra Va a cacare Il mio Inglese Schifoso Scusate Ma White This Green Line Ecco Line Linea Verde Appena Comparirà Il messaggio Ok Vuol dire che L'ha installato Adesso Aspettiamo un attimo Ovviamente Come lo fue Come lo fue Come lo fue Sono io che lo muovo Clash of Clans Vediamo se c'è il blocco Schermo No il blocco schermo Il blocco rotazione attivo Spero di no Blocco rotazione No Ok Ci mette un po' Perché occupa Non so quanti mega Sto Clash of Clans Non mi ricordo Non ho fatto in tempo a vedere Vediamo un attimo da qua Eh si Ci mette un po' 46 mega Ci mette un po' Aspettiamo un attimo Questo pezzo Forse lo dà io Ok Instalazione Completata Guarderà su smartphone Sì qua si apre il sito Adesso non ci interessa Andiamo sulla home Eccolo qua Clash of Clans Apriamo Vediamo un attimo Eccolo qua che l'ha installato Clash of Clans Now installed on Your smartphone Aspettiamo il caricamento Del gioco Sì vabbè Qua ok Vabbè Ecco qua C'è anche la versione italiana Io ho scregato in inglese Ma vabbè Non lo stesso Non mi piace Sto gioco Incredibile Perfisico Siegefall Finisco questa batteria E chiudo il gioco Quando finisco questa batteria I close the game Et voilà Gioco installato The game is installed In the perfect work Work perfectly Scusate Ho invertito le parole Chiudiamo E boh Che dirvi di più Spero vi sia stato utile Questo video Se così fosse lasciate Un mi piace E iscrivetevi Al nostro canale Il mio Ed isprigo Ok Quindi bella gente Giolette Gamer Sono qui presente Ci vediamo nel prossimo video Ok Bella No